bene amici di newsjik.it stiamo girando questo video da ZTE atlas w alla risoluzione VGA di 640x480 pixel non c'è la possibilità di fare uno zoom proviamo un controsole si adatta bene ai cambi di luce pan veloce come vedete la fotocamera riesce subito ad adattarsi ripeto stiamo girando questo video da ZTE atlas w